A Barberino di Mugello vi aspetta un locale dove degustare l'eccellenza di carni selezionate, pescato fresco, specialità regionali e pizze cotte nel forno a legna senza glutine. Don Quixote propone la ricca e diversificata tradizione enogastronomica regionale, genuina e sempre saporita, interpretata con creatività e passione. L'ambiente curato e familiare, il luogo perfetto per una pausa pranzo o una cena da trascorrere in famiglia o con amici. Lasciatevi sedurre dai sapori toscani, dal nostro pane ai nostri dolci, tutta la nostra passione.